mai senza profumo punto it oggi ti voglio fare vedere una fragranza clamorosa una fragranza spettacolare unica stiamo parlando di black di pur distance eccolo qui questo è il 17 ml loro nascono con questo formato poi fanno anche il 60 ml e il 100 ml io ho il piccolino della serie preso da mai senza profumo ricordo che i rivenditori in italia sono pochissimi tra cui appunto marco varriale ma anche campo marzi altro brand al quale io sono particolarmente legato la fragranza è una fragranza una delle più belle della mia collezione è una delle più pregiate senza ombra di dubbio parliamo di un estratto di profumo al 33 per cento naso di primissima importanza antoine lì una fragranza avvolta nel mistero sia perché la profumazione appunto è veramente misteriosa sia si avverte ut tantissimo moltissimo molto raffinato si avverte un cuoio stupendo superlativo assolutamente con un filo di incenso che gli dà appunto questa nota misteriosa ma la fragranza è avvolta nel mistero anche perché appunto queste note olfattive in realtà non sono dichiarate sono presunte presunte tali fatto sta che il profumo è davvero stupendo è potentissimo è meraviglioso eccolo qua mamma mia che potenza loro dichiarano 33 per cento ma secondo me siamo anche qualcosa in detto questo facciamo una piccola vaporizzazione mamma mia che buono mamma mia potentissima vera nicchia questa è nicchia selettiva molto selettiva questa è vera nicchia spettacolare